Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Continuano nella Presila Cosentina le proteste contro la discarica di Celico. Questa mattina un attivista dei comitati ha avviato lo sciopero della fama incatenandosi di fronte al municipio di Celico. Vediamo. La discarica va chiusa e ancora sto mettendo a rischio la mia vita per salvare quella degli altri. Sono alcune delle frasi che campeggiano sui cartelli appesi davanti al comune di Celico. A scriverlo Giovanni Peta, militante dei movimenti che da anni si battono per la chiusura della discarica, che questa mattina ha iniziato lo sciopero della fame incatenandosi davanti al municipio. A dare manforte alla protesta, il comitato ambientale Presilano, chi si batte per la chiusura della discarica, chiede al governatore Oliverio di imporre la chiusura per rispettare le istituzioni, visto che 13 consigli comunali hanno deliberato per sospendere e poi chiudere la discarica, e la popolazione. Vogliamo che il presidente Oliverio ci dica chiaramente cosa vuole fare della discarica di Celico. Noi abbiamo già fatto una proposta, che è quella di sospendere immediatamente l'AIA e poi chiuderla. Con questa proposta noi siamo andati in 13 consigli comunali e 13 consigli comunali hanno deliberato all'unanimità la proposta che noi proponevamo, cioè quella di chiudere la discarica, di sospendere immediatamente e di chiudere la discarica. Sulla base di elementi molto concreti, che sono l'illegalità con cui è stata attuata e sulla base di tantissime dimostranze da parte dei cittadini rispetto alla puzza e agli odori cattivi che si sentono. La protesta dunque va avanti. La presida Cosentina continua ad urlare forte il suo no contro la discarica di Celico.